In consiglio comunale arrivano le agevolazioni tributarie per le attività commerciali penalizzate dai lavori nei cantieri del centro storico. Ieri anche l'ennesima riunione con i commercianti durante la quale si è trovato un accordo per procedere in modo veloce ma meno impattante per le attività lavorando di notte e riaprendo a mano a mano i pezzi finiti nel lato della futura Rambla. Una ricetta per sostenere i commercianti messa a punto dal sindaco Perluigi Biondi dopo un confronto con il vice sindaco Raffaele Daniele e rappresentanti dell'opposizione. In apertura dei lavori infatti sono stati approvati subito gli emendamenti del sindaco condivisi anche con le opposizioni. Riduzione del 50 per cento dell'atari per i commercianti, 30 per cento e meno per famiglie numerose con persone con disabilità. Un bilancio dalle risorse importanti. Noi avevamo istituito prudenzialmente due capitoli per complessivi 800 mila euro per dare dei ristori sotto forma di diminuzione della tassa alle persone a delle categorie specifiche. In particolare abbiamo individuato i commercianti che sono interessati dai cantieri del fondo complementare con una riduzione del 50 per cento e poi anche abbiamo pensato alle famiglie numerose e a quelle con presenza di disabili a cui abbiamo effettuato invece un taglio del 30 per cento. Ci sembra un gesto di equità fiscale e anche di attenzione sociale. Ecco per quanto riguarda il bilancio è un bilancio con risorse importanti. Sì è un bilancio importante puntuale che abbiamo fatto con grande serenità per due ordini di motivi. Da un lato la riduzione dell'indebitamento. Abbiamo abbattuto del 50 per cento l'indebitamento dell'ente e dall'altro la possibilità grazie all'attuale esecutivo nazionale della Meloni di avere un contributo triennale per complessivi 53 milioni di euro. Già durante la prima commissione i consiglieri Paolo Romano e Lorenzo Rotellini avevano chiesto al sindaco un impegno preciso in tal senso con i ristori per le attività e agevolazioni sui tributi. Ma per il consigliere romano a parte la buona notizia per i commercianti il bilancio ha diverse criticità. Bisogna investire di più per i servizi. Noi abbiamo un tasso di copertura per i servizi a domanda individuale molto basso pari al 47 per cento. Alcuni il trasporto scolastico addirittura il servizio di prendere scuola il nido vanno al di sotto di quella che la soglia consentita dalla norma il 36 per cento ci attestiamo tra il 10 e il 20 per cento. Su questo bisogna fare delle riflessioni dovute perché rischiamo anche di incorrere a quello che è un giudizio negativo della Corte dei Conti. È chiaro che è un bilancio che avrà delle risorse molto cospicue ma quello che manca è sempre quel fil luce di regolamentazione di attuazione delle misure che invece chiede la cittadinanza tanto sul sociale tanto sul turismo tanto sulla cultura ma anche su tutte quelle infrastrutturazioni che soprattutto nelle frazioni sono nevralgiche a cui ancora non si lascia dare risposta.